Temperature siberiane anche nel VCO da ieri e freddo da record. Nel Verbano dalla tarda serata è arrivata anche la neve. Una spolverata a pochi centimetri peraltro inattesi, ma tanto è bastato questa mattina per creare qualche disagio, anche perché con i meno 6 gradi registrati nella notte la neve è ben presto ghiacciata. I mancabili polemiche sui social e qualche segnalazione al Comune di situazioni localizzate che sono state prontamente oggetto di intervento. Il Sindaco Silvia Marchionini spiega che il sale ieri sera è stato regolarmente sparso, anche se con le temperature siberiane registrate si sono comunque formate delle gelate. All'alba di questa mattina, inoltre, i tecnici del Comune si sono messi all'opera armati di pale per pulire il più possibile strade marciapiedi. Per la giornata di domani, secondo il bollettino ARPA, non sono previsti miglioramenti. Potrebbero arrivare nuove nevicate e le temperature resteranno ancora sotto lo zero.